salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo con dei zii riprendiamo con un nuovo personaggio visto che nell'ultimo appuntamento ci hanno ucciso e quindi siamo nuovamente da capo allora siamo nati nel bel mezzo del nulla laggiù sembra esserci una casa anche qua in verità quindi ci controlliamo prima questa e poi ci spostiamo di là e vediamo un po' inizierà a trovare qualche cosa di utile magari visto che siamo infreddoliti e come se non c'ho niente c'è lo devo andare a uccidere a pugni praticamente mi dispiace ad averci qualcosa quello era cibo assicurato non so se a pugni si ammazza ma non penso così eh non sarà ma cacchio pio di qua vieni qui parte che anche se ci avessi avuto un'arma c'è giusto gli devi sparare ma ammazzarlo vabbè perché perdiamo tempo a correre dietro e consumiamo pure quelle poche risorse che abbiamo allora qui c'è una strada ottimo lì ci sono dei cartelli e qui c'è l'inizio del villaggio del paesino quello che è quindi direi che possiamo incominciare da qua e vediamo com'è la situazione e sì lì ci sono i cartelli io so anche degli zombetti in verità quindi vediamo dai forse siamo stati noi veramente a farmi nascere cazzo è ma dove cavolo sei sbocato te che non c'eri prima ci tua cazzo sei no c'è niente vabbè gli afflechiamo giusto il cappelletto della ana che può tornarci comodo per ripararci un pochettino dal freddo ah un bel po' di zombie eh cioè da girare un pochettino in tondo oppure presta un po' attenzione niente quello ha fatto pure una scatta l'ho fatta pian corpo così lei senza eh i zombie che durano in eterno pure i cazzotti quelli più caricati comunque ci mettano un boato di tempo e scende oh una pinza che può che sa torna utile questa che è pomodoro essicchiato buono giusto per cercare di fermare un attimo la fame poi se troviamo ovviamente qualcosa di meglio non sarebbe male allora qui c'è un altro zaino che c'è pure una tragolletta che potrebbe tornarci comodo il problema è che andiamo a po' se riusciamo a piarlo senza eppure una una fontanella lì anche quella non è male un po' se riusciamo a ammazzarlo senza che faccia troppa caciara ok ottimo è buona? si eccolo me ottimo così allora entriamo un attimo qua poi andiamo a bere un pochettino la fontanella c'è oh non c'è niente c'è una pistoletta buono e c'è pure i caricatori c'è il caricatore no però c'è no c'è l'ha c'è l'ha buono otto corpi sette in caricatore uno in canna quindi certo è una scacciacani questa però sempre meglio di niente all'inizio ecco questa magari è il monzone e là l'avremmo potuto ammazzare questa la buttava magari ok ora tocca far un po' attenzione ma se riuscissi appunto a arrivare alla fontanella sarebbe tanta roba un po' di zombie in un altro sta pure infrattato lì e in un altro c'è che che si agita dai bevi c'è pure la vedetta no non te gira non te gira non te gira no no rimani là rimani là così canna assene subito perché appena quella vede ci vede questa fa una cacciara ecco punto è girata via 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 qualcosa comunque siamo riusciti a berla ok sembra che non abbia non abbia fatto cacciara solitamente appena ti vedono cacciano un urlo e arrivano zombie pure dall'altra città praticamente ma stavolta ci ha detto ci ha detto bene vediamo se troviamo qualcosa da mangiare come si deve non so riuscire a bere più da tanto questi molto danneggiati addirittura quindi non ci interessano qua proiettili noi ormai facciamo sempre la collezione di di proiettili ah questa è la città con col ponte ok lì c'è il piccolo accampamento militare ok ok questo è il kit per la pelle potrebbe tornaccio utile tintura alcolica per disinfettare delle bende ma ce n'è veramente uno sputo quindi è come se non ci fosse praticamente filo spinato che per ora possiamo anche lasciare e andiamo dall'altra parte vediamo vediamo cosa c'è c'è la mappa che insomma potrebbe tornarci utile comodo se trovassimo pure qualcosa da mangiare non sarebbe affatto male allora diamo un'occhiata un attimo qui se questa è tutta zona militare questa che è ah i guanti buono via via sempre comodo altri guanti questo isolamento ottimo forse sono meglio di quelli che avevamo si quindi questi li lasciamo qua erano zombie quello si ok ho visto uno in piedi che fermo immobile questa ottica da combattimento però insomma alla fine per il momento non ci interessa diamo un'occhiata una stazione qua assolutamente niente cappelletto i proiettili questo è il punto 22 che porta questa infatti mi ricordavo che la piccoletta portasse il punto 22 allora togli un attimo qua scambia e riempi no è sbagliato ok scambia e combina perfetto il zobbetto si è avvicinato allora ci so eh l'ho visto sicuro infatti eccolo ah che cacchio niente quando deve picchia però non picchia dannazione abbiamo già rovinato i guanti cazzarola oh scatola di colpi ottimo sicuro si sono danneggiati infatti vedo hanno cambiato già non so più neri belli lucidi come erano prima c'è un cacchio di niente avevo visto degli zombie con la divisa da puliziotto potevano tornarci utile magari con qualcosa questa che è una tracolla con dei proiettili quindi qualcuno l'ha switchati però ce la ce la prendiamo perché ha 35 slot invece dei 30 quindi ottimo così visto ma che corpisò 5 45 vabbè qua c'erano zombie eeeh vabbè e dai morto? cazzo stai eeeh che cazzarola niente ovviamente ovviamente ma è una gioia qui dentro solo ottiche l'accampamento di solo ottiche praticamente eeeh lì c'è un altro più un altro ancora qua ce ne sono un sacco però non è che mi voglio ammazzare tutti speravo che magari qualcuno avesse buono di crackers buoni ci mangiamo a parte che me sa non so se a me conviene mangiarli però i quanti zuzzi eh un attimo una cosa così nel dubbio se qualcuno di quelli con diciamo con i vestiti militari magari hanno qualcosa di interessante no sbagliato la fama a metterci eh magari potevamo prenderli questo pure se mangia ottimo 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 eeeh non so se è troppa sta cosa di addirittura togli i guanti prima di mangiare sta roba eh però diciamo facciamo un'accortezza in più vendiamo tutto che è così ci sale pure un po' la sete che non è male a posto ok allora ho sentito uno zombie qua sulla destra c'è un capanno oh che cazzo minchia quanti ne so uno solo so mille annaziani riusciamo ad andare dall'altra parte in qualche modo senza farci scoprire magari sarebbe veramente un'ottima cosa faccio un bel gruppetto niente devo fare il giro largo qui che c'è qualcosa no no devo fare devo fare il giro largo possibile che da questa parte non c'è una fontana sta solo nell'altra parte me sa e tra l'altro io devo cambiare questi pantaloni perché ancora sto soffrendo un po' il freddo qui che è il generatore più luci incorporate qui c'è chimica scotch torna utile scarpe danneggiate niente di che purtroppo non posso andare a guardare proprio tutte tutte le case perché ci sono veramente troppi zombie oh bottiglietta d'acqua questa purtroppo va svuotata sarebbe da allora aspettate un attimo no avete lontananza delle altre case ma qui c'erano delle indicazioni infatti allora dritto a 2 km c'è qualcosa a destra c'è sia a 1 km che a 4 km quindi direi di andare verso destra purtroppo vabbè per il momento la tengo piena l'acqua so che la devo svuotare però per il momento la tengo piena metti che troviamo delle pasticche del cloro che ci servono per purificare magari buttiamo tutto dentro e riusciamo pure a bere nel momento insomma lasciamo così allora qua dovrebbe esserci la la strada quindi e allora avviciniamoci un attimo perché non ho idea tecnicamente dovremmo seguire no i palità corrente ma i palità corrente la tagliano di netto quindi niente e si rimane la strada allora indicazioni parlano chiare torri ci dovrebbero essere due due città due paesini una a 1 km una a 4 quindi non dovrebbe essere tanto lontano il problema è che ovviamente correndo portiamo via un bel po' di 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 cibo e di sede e poi riusciamo a ad arrivarci lì c'è un altro accampamento o è una casa distrutta come sembra è una casa distrutta però vedo le case sì ok dobbiamo pure far presto perché c'è sta barretta blu già da troppo tempo rischiamo da ammalarci quindi se ci andiamo di corsa così ci riscaldiamo pure allora qui c'è addirittura una deviazione la mi pare appunto qualcosa di militare famo un sarto prima qui e poi eventualmente andiamo lì nelle nelle case e vediamo com'è la situazione non so dove porti sta sta strada ma non è detto che porti in accampamenti militari buffia chirurgica addirittura è un bel cacchio di niente vabbè ci abbiamo provato chi è qua sì sembra una zona militare effettivamente o è eh sì ci sono un sacco di cartelli eh se riuscissi a vedere la la mappa purtroppo non l'ho non sono andata a vederla quando eravamo nella città lì c'era ma non ci sono andato a vederla ok che ci stanno già di zombie qua era giusto per capire se magari nelle vicinanze c'era effettivamente una base ma che è qualcosa ah no è l'angolo della staccionata ma va arrivare tipo un animale invece era l'angolo della staccionata che faceva un gioco di luci strano allora c'è uno con una sacca bella grande uno zaino bello grande non sarebbe male se riuscissimo a piarlo però concentriamo se un attimo ancora su cerchiare di vestirci ma soprattutto anche sopravvive non c'è niente che c'è queste pinze prendiamole vorrebbe esserci comodo allora devo cambiare un attimo sta cosa perché se poco a poco cambio i pantaloni mi sbaglio e butto via pura la pistola e non me ne accorgo sicuro finisce così no guarda questo dove cazzo sta zitto 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 e vai giù ma che cazzo ok non c'è niente no c'è qualcosa la borsa però è da 35 come quella nostra vabbè coggiura quanti oh questa si apre sì c'è niente ovviamente no 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 pure la vecchia no cazzo non ho visto coggiuta eh vabbè eh vabbè eh vabbè la sede che chi ci ha visto ce l'ha sentito ora coggiuta chiudi cazzo giusto il tempo di graffiacce sto stronzo torniamoci un attimo qua giusto per sistemarci un attimo cercare di farla più stelta possibile per quando te ne trovi uno che te separa davanti proprio è un attimo che cosa è questa cuffia invernale ah ok questa si mette sopra pensavo che fosse qualcosa da infilare uh attenzione cr547 magari una scaccia cani uguale però mi sembra che abbia una bella ottica 76239 e c'è qualcosa magari che sciobbiamo 76239 76239 allora andiamo un attimo com'è sto cuciletto che manca però di caricatori ovviamente però possiamo già perlomeno com'è l'ottica buona direi direi cazzo parola direi buona allora certo questo potrei ammazzarlo da qua però potrei anche eventualmente provare ma se sta andata così come si fatti i nostri volevo ammazzarlo attraverso la la finestra in verità ma se se ne è nato così ottimo qui c'è qualcuno qua no allora direi di proseguire lungo sta sta strada purtroppo ancora non ho trovato roba da mangiare se ne sono andate via abbastanza velocemente in verità li proseguiamo ma qua ci sono delle altre case però so più che altro santelone sono più che altro casali insomma contadini quindi qui però c'è dei cancelli questa è una zona industriale c'è una canna fumaria là zombie veri ah no ci sono altre case no ci sono altre case ok ok ora questo non so se è quello di il villaggetto che mi segnava in chilometro o quello a 4 perché ce n'erano più di uno andando comunque in questa direzione quindi non lo so vabbè quello che cerchiamo di di recuperare qualcosa su sacco qua niente ci serve in equal misura sia qualcosa da mangiare e bere che anche da vestire perché siamo veramente messi un po' troppo male questo si mangia ottimo scatoletta che si apre quindi un attimo qua e switchiamole se la mangiamo subito dopo la messa qua ok il fuciletto è ovviamente qualcosa così insomma niente di che però l'ottica mi sembra funzionare bene peccato non ci sia il caricatore quello magari poteva tornarci comodo e basta così dai non sa mangiamo proprio tutta tutta però chissà magari ci dice fortuna e riusciamo a trovare qualcosa allora saniamo un attimo su ste case qua chi è quello c'è 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 comunque anche qualcosa sulle spalle però la sacca che abbiamo trovato non è proprio malissimo quindi per ora diciamo che non abbiamo grossi problemi di spazio queste ce le prendiamo sono i 380 credo cappelletto da da pescatore continuo ecco la ho sentito l'hai già visto e viene a romperci le schiatole aspetta che ho visto che c'era l'altra aperta qua eccolo fatti e vabbè stiamo qua ammazzamola dai magari riusciamo a piarci pure questo ottimo ci prendiamo sia la batteria che può tornarci comodo e questo ora lì li dobbiamo switch un attimo eeeh così ok mettiamo un attimo così a caso e poi ce li sistemiamo perfetto di questa via questo addosso ok chiudi un attimo allora eeeh che c'è qua un buon caricatore ottimo e c'è pure un orsacchiotto che tra l'altro visto che mi avete detto mi avete appunto detto l'utilità dell'orsacchiotto ora me lo prendo praticamente servono per mettere quegli oggetti che puoi evitare che si bagnino o per proteggerli comunque meglio c'è un sacco di proiettili diversi ma non per quello che abbiamo il caricatore perché cos'era U70 12 c'è pure 10 corpi su 12 insomma non è male allora proseguiamo ancora un po' ragazzi poi direi che ci possiamo salutare magari già dalla prossima casa ok questa qua sopra controlliamo questa e poi direi che ci possiamo salutare troppo siamo ancora un po' a parte che mangiò posso ancora finire quella che avevo iniziato nasce la spacca addirittura sta portando sa dietro magari potrebbe tornarci comoda e qua non c'è niente e allora intanto chiediamo se qua perché almeno se qualcuno dovesse entrare fa un minimo di rumore dovremmo sentirlo ci andiamo a finire questa c'era veramente poca poca così possiamo terminarla eh beh non sto a mangiare chi quanti ho fatto 70.000 accortezze prima e ora ho mangiato chi quanti però va bene e ok dai abbiamo qualcosina ma la pinza l'avevo già prese vabbè affancucca allora me l'ho scordato di averle prese abbiamo preso qualcosina sta sto scacciacani praticamente non sembra sembra male peccato appunto possiamo soltanto mettere un colpo alla volta perché non abbiamo il caricatore e non penso che sia questo questo più caricatore per la per una pistola però meglio di niente dai ho le brutte qualcosina magari riusciamo a farla spero quindi io direi che ci possiamo salutare qui io come sempre vi ringrazio per la visione se vi va ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un pollicino in su un commentino io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao